Salve a tutti e benvenuti a questa prima puntata del nostro breve viaggio nella storia del doppiaggio, una tecnologia inventata dagli americani e che gli italiani hanno reso un'arte. E cominciamo dall'inizio, dall'avvento del sonoro. Si parte! Buona per me! Tutto inizio con l'avvento del sonoro. Il cinema muto ha sempre avuto fin dall'inizio un accompagnamento musicale che viene eseguito nelle grandi città a seconda del prestigio del locale da musicisti o da orchestre più o meno grandi e strutturate, mentre in provincia da un semplice pianoforte. Comunque si cerchi in ogni modo di integrare i rumori, le parole e la musica con le immagini che scorrono sullo schermo. In Italia, per esempio, il famoso trasformista Leopoldo Fregoli da dietro lo schermo recita dal vivo le battute degli attori con voci diverse, eseguendo così un doppiaggio in diretta dei film che proietta. Ma la svolta avviene in America. Partito! Fin dalla metà degli anni venti, la Warner Bros, su insistenza di uno dei fratelli Warner, Sam, il più appassionato di tecnologia, aveva iniziato ad investire in ricerche sul sonoro. Il primo esperimento viene fatto con il film Don Juan di Alan Crossland. Si tratta di una storia a chi ha i dialoghi muti, ma la musica è già integrata nel film. La sonorizzazione è realizzata con il sistema Vitaphone, che permette una rudimentale ma efficace sincronizzazione fra il video e l'audio registrato a parte e riprodotto su un disco. Ma il vero atto di nascita del sonoro è Il Cantante di Jazz, uscito nello stesso anno e diretto ancora una volta da Alan Crossland. E da questo momento in poi le fortune della Warner Bros decollano e il mondo del cinema non sarà più lo stesso. Ma il sistema Vitaphone ha dei limiti, perché anche se i rumori di fondo e le musiche possono essere riprodotte anche senza una perfetta sincronizzazione audio-video, con i dialoghi questa cosa invece è indispensabile e può bastare qualunque inconveniente, come la rottura della pellicola, la perdita di qualche fotogramma da compromettere questa sincronizzazione. Infatti per evitare questo problema, in questo film i dialoghi parlati sono ridotti al minimo, sono ancora tutti muti con le didascalie, tranne questa brevissima battuta. Anche la Fox fin dalla metà degli anni venti aveva iniziato ad investire in genti capitali nella ricerca del sonoro, ma lavorando su una tecnologia diversa. Sempre nel 1927 la Fox brevette il procedimento Fox-Moviton, che non ha bisogno del disco ma incide il suono direttamente sulla pellicola. Ma un po' perché la Warner l'ha bruciato sul tempo e un po' perché lo stesso William Fox non crede molto nel suo utilizzo per il cinema di finzione, nei primi tempi il sistema Fox-Moviton verrà impiegato soprattutto per i cinegiornali e i documentari. I problemi di sincronizzazione del parlato vengono in poco tempo risolti e già l'anno dopo nel 1928 esce il primo film totalmente parlato, Le luci di New York di Brian Foy. Da quel momento in poi la produzione cinematografica non potrà più prescindere dal sonoro. Partito! L'entusiasmo per il sonoro lancia nell'avventura perfino un piccolo gruppetto di italiani emigrati a Hollywood che lavorano per la Fox, la Paramount e la Metro-Goldwyn-Mayer. Questo gruppo tenta il colpo di produrre un film totalmente parlato in italiano e rivolto al gruppo degli emigrati. Il titolo del film è Sei tu l'amore del 1929, prodotto dalla Hitalton, la società fondata per l'occasione. Il regista è il calabrese Alfredo Sabato che lavora la Paramount e i prodotti sono il napoletano Guido Trento che lavora per la Fox e il mantovano Augusto Galli della Metro-Goldwyn-Mayer che diventerà uno dei primi direttori di doppiaggio italiani. Come protagonista viene scelto il giovane cantante 23enne Alberto Rabagliati che qui è agli inizi della sua carriera, diventerà famosissimo in seguito e che si trova in America per partecipare ad un concorso indetto dalla Fox di rassomiglianza con Rodolfo Valentino che era morto da poco. Il film ha un certo successo, anche se ovviamente limitato alla cerchia degli immigrati italiani e lo stesso Rabagliati se in entusiasma lo vorrebbe portare in Italia e distribuirlo, sennò che in Italia il circuito delle sale è estremamente arretrato, pochissime sono in grado di riprodurre un film sonoro e così il progetto muore sul nascere. Il sonoro oppone alle major un problema molto grave, cioè come rendere comprensibile un film americano ad un pubblico che non parla inglese, quindi poter continuare ad esportarlo. Una prima soluzione è quella delle versioni multiple, cioè un film girato direttamente in varie lingue, cioè stessa sceneggiatura, stessa scenografia, stessi costumi, ma un cast, attori e registi di nazionalità diverse. Nel 1930 la Metro Goldwyn Mayer realizza il film Luigi la Volpe di Hal Roach, in inglese Man of the North, un western girato in inglese, tedesco, spagnolo e italiano, interpretato da quattro cast differenti, uno per ogni nazionalità. La versione italiana è interpretata da Franco Corsaro, un attore immigrato di origine siciliana, e Luisa Cazelotti, una cantante di musica lirica italo-americana, figlio di un musicista immigrato dal Friuli. Il film in America dà risultati mediocri, ma in Italia è un disastro totale, anche perché il pubblico italiano, questi attori italo-americani che parlano con questo accento italiano così falso, così fortemente influenzato dall'inglese, proprio non li sopporta. Comunque, a quanto pare, le versioni multiple sembrano essere l'unica soluzione in questo momento disponibile per continuare a restare presente sul mercato internazionale, anche se la qualità crolla drasticamente. Anche la Fox tenta la strada delle versioni multiple, ma senza troppa convinzione perché sta tenendo d'occhio una nuova invenzione tecnologica, il doppiaggio. Questa nuova tecnologia era stata inventata dal fisico austriaco Karol Jakob e consiste nel sostituire la colonna sonora relativa al parlato con un'altra dove i dialoghi tradotti sono recitati in una lingua diversa dall'originale. La sperimentazione di questo nuovo sistema viene affidata a Louis Laffler, un tecnico di montaggio che conosce molto bene l'italiano perché ha vissuto tanti anni a Roma. Vengono così realizzati i primi esperimenti. Uno di questi è il film Maritati a Hollywood. I risultati commerciali di questo film non sono granché, anche perché resta il problema di un doppiaggio eseguito da questi attori italo-americani che non sanno parlare un italiano credibile. Però il sistema tecnicamente funziona. Il primo passo è fatto, anche se occorrerà aspettare ancora un po' prima che si affermi questa nuova tecnologia. Comunque in Italia c'è un problema ancora più grave, un problema strutturale. Il nuovo sistema di sonorizzazione coglie del tutto impreparato il cinema italiano che in gran parte non è attrezzato per proiettare film sonori. Le sali italiane, infatti, che sono poco meno di 3.000, sono tutte concentrate nelle grandi città e non sono organizzate in grandi catene come negli Stati Uniti, ma gestite da piccoli imprenditori che campano più o meno bene con questo mestiere. E nessuno di loro ha quindi le risorse finanziarie necessarie a investire in questa nuova tecnologia. Tranne uno, Stefano Pittaluga. Stefano Pittaluga è il primo vero imprenditore cinematografico. Dopo un viaggio in America nel corso degli anni 20, crea un'impresa sullo stampo delle major hollywoodiane basata sul controllo di tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione e la gestione di una catena di sale cinematografiche. Per questo motivo nel 1927 aveva rilevato la gloriosa casa di produzione Cines allo scopo di iniziare la produzione di film italiani con le nuove tecnologie. Nel giro di pochi anni avrà il controllo di circa l'80 per cento del mercato cinematografico italiano. Perciò all'avvento del sonoro Stefano Pittaluga sarà l'unico imprenditore ad avere la capacità finanziaria per rinnovare le attrezzature delle sue sale con i nuovi costosissimi impianti. Oltre a tutto Stefano Pittaluga è anche uno dei maggiori importatori di film americani, compreso quelli della Warner Bros e sarà quindi lui a poter proiettare il 19 aprile del 1929 in una delle sue sale, il Super Cinema di Roma, il cantante di jazz con un successo straordinario. Il 23 maggio del 1930 dopo un imponente lavoro di ristrutturazione vengono inaugurati i nuovi stabilimenti della Cines dedicati specificamente alla produzione di film sonori. Nello stesso anno Pittaluga produce il primo film sonoro del cinema italiano, La canzone dell'amore diretto da Gennaro Righelli. Dopo il grande successo di questo film il regime si convince della grande importanza che può avere il cinema per la sua propaganda. Decide quindi di sostenerlo con tutte le sue forze, soprattutto con sovvenzioni e contributi e con leggi protezionistiche. Commentator Pittaluga, l'attività cinematografica interessa nello stesso tempo l'ordine artistico, l'ordine economico e l'ordine politico della nazione, in quanto che convoglia le forze della nazione verso manifestazioni destinate a portarne nel mondo la rinomanza. Per questo io sono qui, nel vostro stabilimento, a testimoniarvi l'interesse vivo del Governo nazionale per questa branca così interessante, così difficile e così importante dell'attività industriale ed artistica del Paese. Io ho pronto un piano di lavoro, un piano di provvidenze, un piano di norme che varrà lo spero sul terreno politico, sul terreno economico, sul terreno finanziario a preparare alla cinematografia italiana più facili condizioni. Ma nel complesso di queste norme, nel complesso di questi provvedimenti, nel quadro cioè di ciò che sta per fare lo Stato, occorre che i singoli, occorre che i capitani dell'industria, occorre che la classe dirigente del cinematografo italiano si muova con ferma volontà e con sicura energia. Noi attendiamo e dico noi, soprattutto a nome del mio, del nostro capo, del duce del fascismo, che gli uomini del cinematografo italiano, vecchi e nuovi, diano all'Italia anche in questo campo nuove vittorie. A queste dichiarazioni di Bottai seguono subito i fatti. Nel giro di pochi anni il regime varrà numerose iniziative a sostegno del cinema, promosse e sostenute da Luigi Freddi, il capo della Direzione Generale per la Cinematografia del Ministero per la Cultura Popolare. Da queste misure le più importanti sono la fondazione nel 1932 della Mostra del Cinema di Venezia, nel 1936 la creazione del Centro Sperimentale di Cinematografia e infine nel 1937 la grande opera del regime, la costruzione di Cinecittà. Queste sono le iniziative più importanti, ma già da subito, nell'ottobre del 1930, proprio a cinque mesi dopo l'inaugurazione degli stabilimenti della Cines, il 22 ottobre appunto, il Ministero dell'Interno emette una circolare che vieta la diffusione in Italia di film stranieri in lingua originale. La scusa è quella di preservare la lingua italiana da contaminazione estere, ma in realtà è un espediente abbastanza evidente per censurare e controllare i contenuti eventualmente sgraditi al regime di questi film provenienti dall'estero. Questa disposizione crea un grave problema alle major americane che tengono tantissimo al mercato europeo, soprattutto a quello italiano, il più importante di tutta Europa, dal quale ricavano qualcosa come il 30% dei loro profitti. E non fa che aggravare il problema più generale che le major già da tempo avvertono, cioè quello di rendere comprensibili all'estero i film parlati americani. Un primo tentativo di soluzione è quello della sonorizzazione, sarebbe più giusto dire ammutolimento di un film, e consiste nel rendere muto un film parlato, con musiche e rumori di fondo originali, ma il dialogo sostituito da delle didascalie che lo sintetizzano. Solo che le didascalie di questi film sono molto più lunghe e molto più frequenti di quelli del vecchio film muto. Una cosa più o meno così. film. 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 Oltretutto c'è anche un grosso problema di comprensione della storia perché non tutti gli spettatori sono in grado di leggere le didascalie, la popolazione italiana è ancora in gran parte analfabeta o legge con difficoltà. La conseguenza è che questi film vengono evitati come la peste, le sale restano vuote e Hollywood rischia di perdere il mercato italiano. Nel frattempo, in attesa dell'adeguamento tecnologico delle sale, si recuperano i fondi di magazzino del film muto. Ma la situazione non può reggere a lungo perché si tratta oltretutto di pellicole molto vecchie o molto scadenti e che in ogni caso non riescono a soddisfare i fabbisogni di programmazione delle sale. Chiaramente questa carenza di film parlati in italiano genera una forte domanda e un forte impulso alla cinematografia nazionale che è proprio quello che vuole il regime. Ma perché la macchina del cinema italiano si rimette in moto occorre del tempo perché il cinema italiano è appena ripartito e la sua capacità produttiva ora come ora non supera i 12 film all'anno. Considerate che in Italia in questo periodo circolano qualcosa come 300 pellicoli. Quindi il mercato è ancora solidamente in mano alla produzione americana almeno per il 90%. Ma il problema della disaffezione del pubblico resta perché l'unica alternativa alle didascalie sono i costosissimi film in versione multipla recitate da attori sconosciuti e che parlano un italiano terribile. Occorre assolutamente trovare una soluzione. nel 1930 la Fox produce Il Grande Sentiero, un western epico diretto da Ralph Walsh e interpretato da John Wayne che in questo film recita per la prima volta da protagonista. Nella versione italiana il protagonista è ancora una volta il solito Franco Corsaro che per quanto reciti un italiano accettabile non potrà mai ugualiare il talento di John Wayne e così ancora una volta nonostante la qualità del parlato migliori il film è un fallimento totale. Insomma nessun attore europeo potrà mai ugualiare un divo americano. Un tentativo di superare i problemi linguistici delle versioni multiple viene fatto dalla Paramount che decide di sbarcare direttamente in Europa. Nel 1930 a Johnville nei dintorni di Parigi la Paramount costruisce un complesso di sette stabilimenti dedicato alla produzione di film in versione multipla. Lo scopo del progetto è quello di scritturare direttamente dalle nazioni di origine gli attori madrelingua in grado di recitare in modo accettabile in lingua nazionale. Un altro tentativo che viene fatto è quello di far recitare le star di Hollywood direttamente in lingue diverse. Qualche volta l'operazione riesce un po' meglio se gli attori sono di madrelingua diversa come Greta Garbo o Marlen Dietrich che se la cavano molto bene nelle versioni destinate al mercato tedesco ma di solito i risultati non sono molto soddisfacenti. Anche se spesso come si dice la pezza è peggiore del buco perché queste star che devono recitare in una lingua che non è la loro sono piuttosto penose anche se a volte si ottengono degli effetti talmente bizzarri da aumentare paradossalmente la popolarità della star. E' quello che succede per esempio a Stanley Olio quando recitano nel film Muraie della Metro Goldie Meyer che è girato in versioni multiple. Nella versione italiana devono leggere le battute da una lavagna posta di fianco alla telecamera. Ma lo fanno con un accento talmente buffo e assurdo da aumentare l'effetto comico. Tanto che verrà ripreso da Mauro Zambutti e Alberto Sordi quando verrà ridoppiato in Italia. Ecco, adesso siamo in un bel pasticcio per colpa tua. Come sarebbe a dire in un bel pasticcio? Hai voluto vendere ad una guardia quella bottiglia di biola? Perché l'avevo scambiato per un tramviere. Intanto la Fox prosegue con le sperimentazioni sul doppiaggio e questa volta Lewis Leffler crea a Hollywood il primo stabilimento interamente dedicato al doppiaggio e realizza il primo film interamente doppiato in italiano. Tu che mi accusi di Victor Fleming. I doppiatori sono più o meno quelli che avevano partecipato alla versione multiple del Grande Sentiero. Ci sono Franco Corsaro, Luisa Casellotti, Guido Trento, Augusto Galli, sua moglie Rosina. E questa volta il film ha un certo successo e convince le major che è proprio questa la strada da seguire. Una strada che è molto più pratica e anche molto più economica delle versioni multiple. Partito! Nel 1931 la Paramount converte al doppiaggio i suoi stabilimenti francesi di Jeanvilla. In questo nuovo reparto convergono tutti quegli attori italiani che si trovano già lì per recitare nei film in versione multiple, ma che ora dovranno invece cimentarsi con un nuovo mestiere, tutto da inventare. Sono soprattutto attori di teatro e della radio che presto costituiranno le prime colonne portanti del doppiaggio italiano, come Paolo Stoppa, Rina Morelli, Andreina Pagnani, Gino Cervi e tanti altri. La Metro invece segue l'esempio della Fox e crea anch'essa un proprio stabilimento di doppiaggio a Hollywood e lo affida per qualche tempo al regista italiano Goffredo Alessandrini. In Italia intanto, con la sua nota a lungimiranza, Stefano Pittaluga decide di investire in questa nuova tecnologia e crea presso la Cines un reparto dedicato al doppiaggio. E ancora una volta il regime approva e lo sostiene con tutto il suo peso. Partito! Il 5 ottobre 1933 il regime fascista, ancora una volta con l'alibi di preservare la qualità della lingua italiana, ma in realtà lo scopo di ottenere un maggior controllo sui contenuti, emette un regio decreto legge, il numero 1414, che vieta la circolazione in Italia di film stranieri doppiate all'estero. Un decreto che è tuttora in vigore. L'iniziativa va tutto a favore della Cines, che proprio nell'estate dell'anno precedente aveva inaugurato il proprio reparto di doppiaggio, la cui direzione era stata affidata al regista e attore Mario Almirante. Almirante, padre del futuro uomo politico Giorgio Almirante del movimento sociale, lavora da tempo nel mondo del cinema, proviene dal muto ma ha fatto anche qualche film sonoro e fin da subito intuisce quel che c'è da fare, cioè dare dignità al parlato, fare in modo che la voce dell'attore italiano aderisca non solo ai movimenti delle labbra dell'attore americano, ma anche al suo carattere. Oggi è una cosa che sembra scontata, ma a quell'epoca non lo era affatto. Inoltre, per dare prestigio al doppiaggio, si circonda di uno staff di attori e di collaboratori di altissimo livello. Tra gli attori che iniziano a doppiare la Cines ve ne sono alcuni che avevano già fatto qualche esperienza negli studi di doppiaggio della Paramount a Genville. Tra questi ci sono Andrina Pagnani, Umberto Melnati, Olinto Cristina, Mario Ferrari, Tina Lattanzi, Gero Zambuto, Augusto Marcacci, Camillo Pilotto e tanti altri. Il primo film straniero ad essere doppiato in Italia dalla Cines è un film francese, A me la libertà, di René Clerc. Il doppiatore di uno dei due protagonisti è Gino Cervi. Ma insomma, che cosa vuoi? Per danaro? No, no. E allora? Ecco qua. Vorrei restare alla fabbrica. No, 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 è il solo posto dove non ti voglio vedere. E perché vuoi restare alla fabbrica? Ecco, io sono innamorato. No, sì, 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 è difficile. Ecco qua, una ragazza che lavora in fabbrica. L'iniziativa di obbligare a svolgere in Italia l'attività di doppiaggio coglie ancora una volta Hollywood di sorpresa e le major sono costrette a cambiare ancora una volta tutta la loro organizzazione. Paramount decide di sciogliere il suo stabilimento di Genville e così fanno pure la Fox e la Metro a Hollywood. Ma mentre la Metro decide di aprire un proprio stabilimento di doppiaggio in Italia, le altre major invece preferiscono affidarsi alle nuove case di doppiaggio che proprio in questo periodo stanno nascendo come funghi. La necessità di doppiare in Italia tutti i film stranieri, cioè la quasi totalità dei film visti dagli italiani, crea una esplosione nella domanda di doppiaggio. Così fra il 1932 e il 1933 sorgono altre nuove società in concorrenza con la Cines, come la Photovox, la Italacustica e la Cesar Film. Ma soprattutto in questi anni nasce la Fonoroma, che per un certo periodo addirittura produce direttamente alcuni film. La Fonoroma viene fondata da Salvatore Persichetti, che è il primo imprenditore vero e proprio di questo settore. Persichetti intuisce una cosa fondamentale, cioè l'importanza di abbinare ad un specifico volto di una star di Hollywood una determinata voce, sempre quella stabile. E per far questo ha quindi bisogno di uno staff di collaboratori stabile a cui poter attingere continuamente. E per far questo quindi decide di metterli a stipendio fisso, anziché pagarli volta per volta. E questo è il primo segno che indica come il doppiaggio comincia a venire concepito anche come un mestiere a sé stante. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video vedremo la prima parte di una veloce carrellata di nomi di doppiatori, che sono quelli più importanti di questo periodo e che possono essere considerati fondatori di quest'arte. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti, iscriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata! Grazie! Grazie!